Per chi vuole fare impresa oggi ed investire sul futuro, il nodo principale da superare è spesso l'accesso al credito. Si è discusso proprio di questo nel corso del terzo seminario Open Meeting. Gli imprenditori pugliesi investono sul futuro, agevolazioni ed incentivi, strumenti del credito, organizzato appunto da Confimprenditori Bari. Ascoltiamo. Confimprenditori Bari è un'associazione datoriale che è nata ad ottobre del 2013, ma la nostra associazione nazionale è nata nel 2008. Credo che oggi l'associazione ha quattro compiti fondamentalmente e sono informazione, formazione, consulenza e assistenza. Questi sono i nostri quattro pilastri e su questo noi ci battiamo ogni giorno a fianco degli imprenditori e vogliamo valorizzare non soltanto gli imprenditori, ma anche i professionisti, ossia i commercialisti e i consulenti del lavoro. Gli imprenditori pugliesi investono sul futuro, quali sono i problemi principali che affrontano in questo percorso? Come potremo vedere oggi, anche da una slide che poi trasmetteremo durante il seminario, oggi l'imprenditore ha una difficoltà sia ad accedere al credito, in quanto le banche hanno ristretto le normative per accedere al credito e poi perché, dobbiamo denunciare oggi, c'è uno spread che divide il paese, in quanto le aziende del sud pagano il costo del danaro molto di più rispetto alle aziende del nord. Quindi questa già è una prima difficoltà che ha il nostro imprenditore, soprattutto pugliese. Noi vogliamo aiutare gli imprenditori ad avere nuovi orizzonti e nuove risorse, proprio attraverso la finanza agevolata.